Non voglio mirare con cecchino, perché sennò vengono riflessi, capito? Basta, 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 basta! Oh, faccio io, faccio qui! Ho il prechiato! No, tienilo! Adio, adesso tranquillo, andate a s'accelerare! Ho il pre... Ho il prechiusione, eh! Eh, qui si mu... sopra la montagna! A terra! Dove? No, 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 no! L'ho confermato! Eh, ci ha chiamato, eh! Vai giù, ci si è vero, si bomba a mano! C'è un altro, c'è un altro... Boh, ma è tattissi in terra a me! Ma è tattissi in terra a me! No, 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 mi sta sparando, mi confermo! Butta il pre... Butto precisione e dobbiamo pushare! Eh, aspetta un secondo... Vai ora! Vai ora! Vai ora! Vai ora! Vai ora, vai ora, vai ora! Dove? Si! Vado laggiù! Alla macchina! A terra! Team manientato! Solo uno, vai giù! Eeeh, la macchina! Lancio una stordente! L'ho suonato, l'ho suonato qua dietro! Traccato, traccato! Bello! Ho fatto faville con questo cerchino questa giornata! Parca la droia! Fotografia! Fotografia! Farsi! Farsi! Eh, ma si a memoria un po' meglio! Farsi! 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 E' un po' meglio! E' un po' meglio! eh ma essi che attacca bravi ragazzi ho giocato come da trailer ora la prossima vittoria tra 8 partite che la cavalcata di balkyrie MENENENENENENENENENENENOW Siamo di aprire meno una frala ok 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 Grazie.